Oh Dio, adesso vomito un'altra volta. E come la mettiamo? Come mettiamo cosa? E in che letto si dorme? Ma che te ne frega dove si dorme? Eh, io non ci riesco, ma insomma qui bisogna decidere. Che merda ti dici? Qualcuno deve dire come si deve fare. Eh, va bene. Ma io sono il più anziano e quindi mi spettano dei privilegi. Via, via. Ma perché non sta dritta? Ma che accidenti c'è? Ci deve essere qualcosa di rotto. Basta che...